Il comune di Cassino riserva attenzione al sociale e continuerà a farlo anche nel 2019. Il bilancio dei servizi sociali, come sostiene l'assessore a ramo Benedetto Leone, è da reimpostare, coniugandolo ad un bilancio generale stabilmente riequilibrato che dovrà essere approvato, ma che non taglierà alcun servizio. La priorità resta l'assistenza specialistica nelle scuole da far ripartire subito. Il rifinanziamento del progetto Famiglie e Minori, nuove risorse nel fondo Sosteniamo per le famiglie di Cassino. Si taglierà qualcosa nel bilancio sociale, andandolo però a spalmare su nuove voci che verranno introdotte, quali un fondo per i giovani e uno per sostenere attività per i bambini autistici. Continuerà il lavoro di prevenzione, avviato in questi due anni, contro la violenza di genere. Le scuole saranno protagoniste del 2019 e un fondo sociale, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, permetterà di aiutare economicamente, con delle borse lavoro, le donne vittime di violenza, che il settore dei servizi sociali e il centro antiviolenza del comune di Cassino seguono nel duro e difficile percorso di recupero. L'emarginazione sociale, la solitudine, le nuove povertà non conoscono confini, si riversano sulla nostra città alimentando conflitti, precarietà, paure e insicurezza, commenta Leone. Quello che molti continuano a considerare il problema di qualcuno è invece un problema di tutti. Ecco perché in questo 2019 riprenderà il cammino dell'assessorato nei quartieri, per continuare ad ascoltare, a conoscere, a scoprire in profondità e con umiltà il tessuto sociale della nostra città. Se vogliamo essere onesti con noi stessi, afferma l'assessore, dobbiamo però riconoscere che si può incidere in profondità, concretamente su Cassino, solo se la politica smetta di parlare a se stessa e inizi ad ascoltare la comunità, una politica che accantone i litigi, che non protesti solamente ma che sia in grado di proporre progetti. In direzione ostinata e contraria continuiamo a credere nella politica con lo spirito di chi osa, con l'entusiasmo di chi ci prova, con la responsabilità di chi ci crede, senza pretendere applausi o benemerenze. Mettiamoci in gioco in prima persona, afferma sempre Leone, per incidere davvero, per cambiare davvero, per migliorare la nostra città insieme. Si chiama politica quella con la P maiuscola, quella che vale davvero la pena di vivere.